Andiamo allora. Partiti. In vantaggio Sarvadi con all'interno Supernonni. Seguono Alta Velocità, Carlotta Spirit, Oxana d'Arcadia, Forza Maggiore e Punta Ventos. Dopo 200 metri di corsa, Supernonni e Sarvadi conducono davanti Alta Velocità, Oxana d'Arcadia, Forza Maggiore. Punta Ventos e Carlotta Spirit all'inizio della curva. In leggero vantaggio Supernonni davanti a Sarvadi, Alta Velocità, Forza Maggiore, Oxana. Punta Ventos e Carlotta Spirit. Poco prima dell'ingresso in dirittura, Supernonni e Sarvadi conducono davanti ad Alta Velocità e Punta Ventos. I cavalli entrano in dirittura. Con Sarvadi in leggero vantaggio lungo la corda, attaccata all'esterno da Alta Velocità e Oxana d'Arcadia. Segue una centropista, Forza Maggiore e in leggero vantaggio Alta Velocità davanti a Sarvadi, Forza Maggiore, Oxana d'Arcadia, Punta Ventos e Carlotta Spirit. E' facile Alta Velocità davanti a Sarvadi, Forza Maggiore e Forza Maggiore. E' facilissimo Alta Velocità davanti a Sarvadi e Oxana d'Arcadia. Beh, l'abbiamo letta giusta, dai, Alta Velocità, insomma, non era abbattibile. Sarvadi e la New Entry è interessante. E datemi atto che a 200 del palo Oxana d'Arcadia ha chiesto...